Buonasera a tutti, questa sera rispondiamo alle email che ci hanno spedito i nostri pazienti. Un paziente in provincia di Verona ci chiede, nelle riabilitazioni di cui parlate si può fare qualcosa per l'occhio pigro? Beh diciamo che la riabilitazione di cui ci occupiamo negli studi oculistici Ghinelli in Villafranca si compone di diverse apparecchiature, una di queste apparecchiature è super specializzata e molto specifica per l'occhio pigro che in gergo tecnico si chiama ambliopia. Abbiamo visto negli ultimi 5 anni anche un'ottima efficacia nel nistagmo, nel trattamento riduttivo del nistagmo, cioè non si riesce con un trattamento riabilitativo ad eliminare il nistagmo ma a ridurlo di molto. Comunque per rispondere alla domanda del nostro paziente sì, è possibile riabilitare l'occhio pigro con una serie di trattamenti, non ne basta uno soltanto, normalmente ne servono 8-10, dipende dai casi e dipende anche dalla plasticità del paziente in oggetto, anche dall'età. Passiamo alla seconda domanda, la seconda domanda il secondo paziente ci chiede, questo tipo di riabilitazione va bene anche per l'ambliopia? Mi sembra di avere risposto perché ambliopia e occhio pigro sono due nomi diversi per la stessa patologia. Un altro paziente da Isola della Scala ci chiede, si può fare qualcosa con un'ambliopia profonda, c'è possibilità di recuperare la vista? Anche se stiamo nello stesso ambito di risposta e l'ho introdotto già da prima, devo dire che un'ambliopia profonda bisogna capire di cosa si tratta. Un'ambliopia profonda se intendiamo per ambliopia profonda un occhio pigro che vede un decimo, due decimi fa sempre parte del gruppo delle ambliopie e degli occhi pigri, quindi che sia un decimo, due decimi o quattro o cinque decimi ha le stesse chance di essere riabilitato un occhio pigro di quella entità. Diverso è quando parliamo di un occhio pigro che vede un ventesimo, un cinquantesimo, cioè di frazioni di un decimo, cioè meno di un decimo, allora in quel caso bisogna veramente valutare con magari qualche iniziale riabilitazione pilota da poi eventualmente interrompere per poi interromperla se vediamo che il paziente non risponde, non recupera neanche un po'. Qui dalla provincia invece di Mantova ci chiedono, ci sono nuovi farmaci che guariscono il glaucoma? La ricerca sta andando molto avanti per il trattamento del glaucoma, ma prevalentemente è più nel trattamento chirurgico che nel trattamento farmacologico, anche se non bisogna dimenticarsi mai che la prima linea di trattamento, soprattutto nelle nostre zone, diciamo in questa parte dell'Europa, è la linea farmacologica che in alcuni casi può diventare o insufficiente o anche se sufficiente sul lungo periodo non più sopportata dal paziente e quindi dare in poche parole l'indicazione alla chirurgia, quindi alla prosecuzione delle cure non più in ambito medico ma in ambito chirurgico. Le operazioni, quindi gli interventi di glaucoma si sono sempre più miniaturizzati nell'ultimo ventenni oserei dire, diventando sempre meno impattanti sia sulla salute del paziente, quindi sul ricovero, sull'anestesia generale o su un'anestesia che blocca i muscoli, per esempio il retrobulbare, si è passati da questo tipo di anestesia e da questo tipo di impatto ad anestesie locali con un impatto impercettibile della chirurgia sulla vita del paziente anche mentre si sta eseguendo l'intervento che, ripeto, alcuni interventi minimamente invasivi oggi si eseguono nell'arco di 5-10 minuti e veramente, veramente di rado danno complicanze. Vediamo un'altra domanda, allora, questa ce la mandano da Villafranca per glaucoma con nervo ottico scavato, campo visivo compromesso, dopo trabeculectomia per oveite. Questa tecnica può migliorare qualcosa? Io credo che il paziente qui si riferiva al trattamento dell'ipovisione creata da glaucoma, quindi in questi casi, diciamo, noi abbiamo un'esperienza, abbiamo maturato un'esperienza soprattutto negli ultimi 5-6 anni di trattamento del paziente ipovedente, quindi non importa in realtà come mai il nostro paziente diventa ipovedente, se ci diventa per un glaucoma, per un'ischemia del nervo ottico o per altre affezioni che possono colpire il nervo ottico, anche per esempio la sclerosi multipla raramente, ma lo fa, localizza alcune lesioni sul decorso del nervo ottico provocando ipovisione, se non cecità direttamente, allora se cecità ben poco si può fare, ma nei casi in cui ci sia un'ipovisione, come dice questo paziente, causata da un nervo ottico scavato, un campo visivo compromesso, un glaucoma cronico, noi eseguiamo la nostra riabilitazione con più macchine, quindi con più macchinari, in più momenti, divise in più momenti nell'arco della settimana, proprio per andare a riabilitare la funzione visiva. Per riabilitazione della funzione visiva non intendo ovviamente la guarigione dalla malattia o la patentabilità del paziente che da un decimo passa a 12 decimi, no, non si tratta di questo. La riabilitazione del paziente ipovedente è una cura sartoriale, oserei dire, cioè un approccio molto specifico e molto individuale. Un paziente non è mai uguale all'altro e nemmeno un occhio è mai uguale all'altro, anche se entrambi gli occhi appartengono alla stessa persona. Quindi lo studio del percorso riabilitativo si fa durante il primo incontro o durante immediatamente l'incontro successivo, quando eventualmente se il paziente non ha tutti gli esami con sé, si completa la storia del paziente seguendo alcuni esami, però è proprio una terapia, oserei dire, sartoriale che non guarisce la malattia di base, ma si propone di sfruttare tutto il residuo visivo del paziente per farglielo, esprimere ai massimi livelli. Questo si traduce in una serie di modifiche del loro modo di vedere, che però sono predittibili solo in parte e variano da persona a persona. Ripeto, c'è una casistica, abbiamo delle percentuali, la risposta dei nostri pazienti ai trattamenti si aggira intorno all'85-87%. Allora, questo è un paziente della provincia di Mantua che ci chiede, l'edema corneale post-strapianto di cornea è datato diversi anni, si può curare anche chirurgicamente? Allora, l'edema corneale post-strapianto di cornea, che sia successo pochi giorni fa o che sia successo dieci anni fa, si tratta sempre alla stessa maniera. Prima cosa, si deve andare a vedere come mai esiste l'edema post-strapianto di cornea, quindi che cosa lo provoca? Perché l'edema post-strapianto di cornea può essere provocato da diversi fattori. Evidentemente, se capisco bene la domanda del paziente, qui si tratta di un'edema probabilmente da depauperamento, cioè impoverimento, riduzione dello strato più profondo della cornea, che si chiama endotelio. Solitamente questa è una complicanza molto frequente in quei pazienti che hanno subito un trapianto di cornea, ipotesi, quando erano giovani, a 20 anni, a 25 anni. Quando a queste persone subentra la cataratta, vengono operate di cataratta e subito dopo l'intervento di cataratta o qualche tempo dopo si comincia ad assistere a un intorbidimento delle immagini e poi quando si va a visita si scopre di avere un'edema corneale. Questa è la più classica, diciamo la più frequente delle condizioni nei pazienti trapiantati di cornea tanti anni fa, proprio perché la selezione dei donatori per trapianto di cornea non era così fine, così professionale come è oggi e quindi si poteva incorrere, si può incorrere però, gli effetti li stiamo vedendo adesso, in questo genere di problemi riparabilissimi, cioè intendiamoci, non è un passo verso la cecità una condizione del genere, anzi si può risolvere ma bisogna identificare con molta esattezza, proprio con molta precisione la causa. Un altro paziente da Piubega ci dice che cure ci sono per chi ha un occhio completamente asciutto a prescindere da dare colliri diverse volte al giorno? Beh, questa è una domanda che fanno molto spesso i pazienti anche quando vengono a visita, parliamo quindi diciamo di trattamenti diversi dalle lacrime artificiali per chi è affetto da occhio secco. Ci sono diverse linee di trattamento, quindi se noi escludiamo quella dei colliri, quindi quella, chiamiamola farmacologica, anche se le lacrime artificiali non sono farmaci, ci resta quella strumentale e quella chirurgica. Quella strumentale, la riassumo brevemente, consiste in diversi strumenti che vanno a stimolare la lacrimazione dell'occhio da solo. Ma il principio con cui queste macchine stimolano la lacrimazione, quindi aumentano la lacrimazione del paziente, è un principio che fonda le sue basi nello stimolo nervoso o in una sorta di infiammazione barra irritazione che il macchinario opera nei confronti della congiuntiva. Anche se in questi ultimi diciamo 10-15 anni questi trattamenti si sono sempre più perfezionati, la loro efficacia varia da un 40-60% della secchezza di base, quindi riescono ad aumentare la lacrimazione e in maniera transitoria, quindi non definitivamente, nel 40-60% dei casi, hanno una percentuale ancora molto bassa, sicuramente da migliorare. Almeno questo è quello che mi è capitato a me personalmente e di cui posso relazionare. Diversamente si possono aiutare questi pazienti con la membrana amniotica fatta in piccole unità elementari, la membrana amniotica quando messa sulla congiuntiva riesce a aumentare la proliferazione delle cellule, di una famiglia particolare di cellule che produce il muco che attrae sull'occhio le lacrime artificiali e da un altro lato, oltre ad aumentare la proliferazione di queste cellule, aumenta anche la secrezione del muco ad opera di queste cellule, quindi il paziente diciamo sviluppa un'aumentata tensione superficiale che è in grado di trattenere sulla superficie dell'occhio le lacrime per più tempo. Ecco, le unità elementari sono un trattamento completamente mutuabile che offriamo presso l'ospedale civile di Volta Mantovana, di cui io sono responsabile del servizio di opulistica. Con questo saluto tutti, vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata. Arrivederci.